Oggi riprenderò Ugo Foscolo perché ho trovato comunque un libro che lo commenta, commenta degli aspetti, delle poesie, delle composizioni di Ugo Foscolo che in realtà molte volte magari non vengono messi in primo piano, specialmente magari nelle scuole. Perché questo comunque è un problema anche tipico di quando si fanno anche altri autori, ad esempio per dire Manzoni piuttosto che Carducci in realtà si tende molto a dare un po' questa visione codificata, prefabbricata e comunque non analizzare magari nel dettaglio, forse anche per una questione di mancanza di tempo. Magari diversi aspetti per dire degli autori quando erano giovani, perché molto spesso degli scrittori, dei poeti hanno avuto comunque delle evoluzioni, quindi l'opera giovanile per dire magari non è come l'opera dell'età matura. E nel caso del Foscolo vi leggerò un paio di analisi, di commenti proprio su questi aspetti delle sue poesie che si conoscono magari di meno rispetto alla visione che poi se ne dà nelle scuole. Intanto vi faccio già vedere le opere di Foscolo che ho, in realtà avevo già fatto un video a commento di alcune, non solo di Foscolo, in realtà avevamo visto comunque anche altri autori affini, quindi come vedete di Foscolo diciamo che le cose importanti ho quasi tutto. Ecco, mi manca il discorso però delle tragedie, quello sì, purtroppo non sono neanche mai riuscita a trovarle, cioè si trovano ma in realtà condensate, diciamo non in formato integrale, quindi ecco questo che purtroppo non ho, nella mia collezione mi manca proprio magari qualcosa di specialistico sul discorso delle tragedie che lui ha scritto, però vabbè non si può avere tutto, quindi mi faccio comunque bastare questo che già ho. Allora, il commento che vi leggerò è tratto da questo libro che è uno di quei libri che ho salvato dal macero. A proposito, sono praticamente riuscita, non li ho salvati tutti, nel senso che sto ancora diciamo tentando, però io insieme ad altre tre persone siamo riusciti comunque, che avevano la macchina, siamo riusciti comunque a portare via direi anche più di un centinaio di libri. Quindi, perché comunque ha seguito ad esempio le cose che ho scritto nei post della community, ecco circa un mese che sono impegnata a tentare di salvare più libri possibili dal macero, il problema è che però io non ho la macchina, quindi ho dovuto cercare persone che comunque volessero aiutarmi, quindi sono poi riuscita a trovare tre persone che effettivamente hanno messo a disposizione la loro macchina per tentare appunto di salvare più libri possibili. Quindi comunque, anche se ne mancano ancora un po', purtroppo, però siamo comunque riusciti a salvare una buona parte dei libri, quindi è già comunque una soddisfazione. Questo infatti fa parte di uno dei libri che era destinato al macero e che ho adottato, io usiamo un po' questo termine. Allora, vi leggerò appunto il commento per quanto riguarda le composizioni del Foscolo giovanile, quando lui appunto era stato influenzato dalla poesia cimiteriale inglese, che è un argomento che tra l'altro avevo già affrontato in una serie di video, poi sotto ve li metterò, così appunto andate poi anche a vedere quelli dove avevo fatto vedere comunque anche altre cose. Fra il 1795 e il 1796 gli orientamenti del Foscolo si precisano, fra i suoi modelli prende ora posto anche il Monti, fra le sue letture, certo in traduzioni francesi o italiane, si annoverano autori inglesi come Young, che anzi viene citato espressamente nell'Elegia e in morte di Amaritte, che avevo già detto che è una delle composizioni poetiche di Foscolo che io preferisco, anzi probabilmente forse la metterei persino al primo posto come composizione poetica. È proprio quella che secondo me rende meglio la vena sepolcrale del Foscolo, insieme poi ovviamente al carne dei sepolcri. Trista è così dei morti la campagna, allorché Young fra l'ombre della notte sul fatto di Narcisa e Igrossilagna. E nell'altra le rimembranze, anch'essa del 1796, assieme con lo Young viene ricordata anche l'Eloisa amata da Abelardo. Era l'istante che su squallide urne scapigliata la misera Eloisa invocava le afflitte ombre notturne e sul libro del Duolo ustava incisa eternità de morte a lamentarsi venitasi Young sul corpo di Narcisa. Narcisa è il personaggio del poema di Young, Le notti, che purtroppo io non possiedo, anzi non so neanche se effettivamente sia stato tradotto per integrale in italiano, perché in realtà si trova, ma in maniera condensata, sulle antologie. Sulle antologie delle volte si trova qualche estratto preso da Young o comunque anche da Parnell, però non si trova, almeno che io sappia, non si trovano questi autori in versione integrale, quindi si trovano condensati sulle antologie, diciamo, nei passaggi più belli, però non si trova l'edizione integrale, almeno che io sappia. Non mi è mai capitato di vederli da nessuna parte. Né soltanto le citazioni ci avvertono di questi nuovi acquisti che il foscolo va facendo alla sua cultura. Le composizioni del 1796 trattano per la prima volta nel foscolo in prevalenza temi di poesia sepolcrale, cari alla poesia tardo-settecentesca, soprattutto inglese, e comunque si compiacciono di temi lugubri e lagrimosi. Ben si vede che il foscolo, non diversamente da tutti gli altri giovani, non ha un suo proprio e ben definito mondo di interessi ed affetti. Tiene invece orecchie ed occhi aperti, attentissima a quanto accade intorno a lui, avido di nuove esperienze, sensibile ad ogni influenza. Di anno in anno il giovane Ugo, anzi il giovane Nicolò Ugo, come ancora conservando il nome di battesimo Nicolò si faceva chiamare, si rinnova completamente, non più nel 1795 le canzonette o le anacreontiche del 1794, ma le odi di ispirazione pariniana, Nicol 1796 e ancora il Parini il suo modello, o almeno non è più soltanto lui, ma spuntano sul suo orizzonte Young e l'Ossian, tradotto da Cesarotti. Allora, sui poemi di Ossian avevo già fatto una recensione del MacPherson, come poema ebbe un'influenza ovviamente stratosferica all'epoca, viene considerato comunque tra i precursori del romanticismo come poema e diede un po' anche avvio a questa moda comunque del medievale, però inteso anche in senso, diciamo, terrifico, comunque gotico, di fatti per dire nell'Ossian ci sono spesso queste descrizioni dei paesaggi con la foschia, con la bruma, no? E quindi come opera, detto un po' al via, questa moda proprio in letteratura del romanticismo sepolcrale, comunque del pre-romanticismo. E di fatti Foscolo, esattamente come altri autori del suo periodo, venne molto influenzato dal MacPherson e poi sotto vi metterò la recensione che avevo già fatto e peraltro vi metto sotto anche i commenti critici che ho già trascritto su quest'opera, così almeno potete andare a leggervi anche i passaggi più belli e anche il commento che è stato fatto. E anche il Monti. Nel già citato piano di studi, ad esempio, ho ricordato una cantica in tre canti intitolata Robespierre, di cui ci sono restate appena due terzine, ma della quale sappiamo, attraverso la menzione che se ne fa in un sonetto di un amico che in essa il Foscolo denunciava la posterità di Robespierre e i luridi destini, sentimenti dunque decisamente antirivoluzionari ed antifrancesi, in tutto simili a quelli che da poco il Monti aveva espresso nella Bassibigliana, che oltretutto anche essa è una cantica in terzine. Le stesse idee, d'altra parte, il Foscolo professava Nel ode il mio tempo, scritta per la monacazione di una nobile giovinetta veneziana, Maria Toderini. In essa il Foscolo ritrae in un ridito agli occhi dello spettacolo di delitti e di orrori che presenta il mondo contemporaneo che è giunto fino a commettere nella persona di Luigi XVI un regicidio e prega alla neomonaca di implorare da Dio pietà per gli uomini. Allora, parlando poi degli aspetti più sepolcrali e più tragici del Foscolo, citiamo appunto qualcuna delle sue tragedie, come il Tieste di ispirazione alfieriana e anche su Alfieri avevo già fatto una serie di video poi sotto ve li metto, perché comunque sono autori che in un certo senso scorrono anche su binari paralleli da un punto di vista di tematiche tragiche. Allora, per quanto riguarda il Tieste che è stata scritta, questa tragedia che è stata scritta da Foscolo è stata composta nel 1795 e si dovrà far parola delle persone che egli conobbe personalmente di cui assorbi le influenze o condivise gli interessi e gli orientamenti a questo proposito colpisce il fatto che il Foscolo non ebbe, pur abitando a Venezia intensi contatti col suo ambiente culturali né Ippolito Pindemonte né Aurelio de Giorgi Bertola furono fra le amicizie del Foscolo che col secondo dei due si incontrò una sola volta. Allora, piccola precisazione sia su Pindemonte sia sul Bertola ho fatto già un video di recensione peraltro questi autori che sono comunque autori vengono giudicati minori nel senso che nelle scuole comunque non si fa ma si fa così giusto magari solamente citando il Pindemonte però alla loro epoca ebbero comunque un'importanza proprio perché anticiparono queste atmosfere bucoliche e anche romantiche ad esempio il Pindemonte fece delle poesie campestri e quindi quando ad esempio poi analizziamo le opere per dire del Foscolo e anche di quelli che vennero dopo di lui bisognerebbe per correttezza ricordare anche i precursori quelli che proprio ispirarono Foscolo e quindi Pindemonte e Bertola sono nomi che andrebbero fatti proprio perché sono i nomi che comunque servono un po' da introduzione per quanto riguarda in Italia delle atmosfere romantiche anche se in caso di questi due autori il loro romanticismo era ancora molto non era così marcato era comunque un proto-romanticismo che poi ovviamente sarebbe stato sviluppato meglio dai nomi venuti dopo di loro allora direi di avervi un po' detto quello che volevo leggervi quindi un po' questa analisi del periodo cimiteriale sepolcrale di Foscolo degli autori che lo ispirarono che ecco secondo me è anche il periodo migliore ecco che preferisco comunque del di Foscolo anzi sinceramente mi spiace anche che lui effettivamente poi non si è andato molto avanti su queste ispirazioni devo dirvi che effettivamente Foscolo io avrei preferito ecco se diciamo un po' questo questo mio desiderio avrei preferito anche che lui si dedicasse per dire magari anche facendo dei romanzi gotici sarebbe stato un sogno proprio perché in realtà lui il talento ce l'aveva e anche comunque diciamo la forma mentis ispirato proprio a queste atmosfere però purtroppo anche per un discorso di comunque di preconcetto che comunque la critica italiana di quel periodo aveva nei confronti della letteratura estera in realtà in Italia purtroppo in quel periodo non abbiamo mai avuto uno sviluppo della narrativa dell'orrore e del gotico e purtroppo ecco pensate un po' che danno che è stato perché se ci fosse stato comunque da parte della critica del tempo degli editori del tempo ci fosse stato un atteggiamento non così di rifiuto probabilmente anche anzi sicuramente anche qui noi in Italia avremmo avuto una vera e propria corrente legata ai romanzi gotici anzi se posso dirlo secondo me saremmo stati addirittura più talentuosi persino degli inglesi che comunque sono tra i padri i madri fondatori del genere proprio perché noi abbiamo avuto come nomi Alfieri Foscolo Monti cioè tutti autori che sì per quanto Milton per quanto Shakespeare siano ovviamente talentuosi però se permettete io credo che comunque anche per un discorso di linguaggio sintassi italiana l'italiano almeno l'italiano di secoli fa avesse una forma aulica migliore ecco diciamo più ricca rispetto a quella inglese senza nulla togliere a Milton perché Milton resta l'apice diciamo della letteratura inglese per lo meno del 600 però secondo me se nomi come Foscolo Vittorio Alfieri si fossero dedicati al romanzo gotico quindi comunque avessero seguito molto di più questi queste passioni giovanili che comunque loro avevano perché loro li leggevano gli autori inglesi e avessero appunto cioè invece di reprimersi sotto questo punto di vista avessero dato più cioè avessero dato il freno libero alla loro ispirazione alla loro passione giovanile noi oggigiorno avremmo a tutti gli effetti una narrativa gotica anche italiana perché comunque già le composizioni giovanili del Foscolo dimostravano che lui aveva comunque letto gli autori sepolcrali inglesi lui comunque conosceva le atmosfere gotiche inglese purtroppo però lui ha comunque fatto queste legie che come ho detto sono tra le mie composizioni foscoliane preferite rispetto comunque al Foscolo che vi fanno fare a scuola che è meno sepolcrale sotto questo punto di vista però purtroppo lui poi non ha proseguito esattamente come altri nomi della nostra narrativa italiana purtroppo lui poi non ha proseguito quindi è un peccato secondo me perché comunque se questi autori si fossero dedicati a questa narrativa del romanzo gotico noi oggi che come poi delle volte volevano anche fare perché lo stesso Manzoni in realtà voleva scrivere un romanzo gotico dell'orrore e anche lo stesso Verga in realtà però poi questi autori sono stati frenati comunque dalla dalla critica e dagli editori italiani che assolutamente non volevano che si scrivesse cose del genere che venivano considerate delle cose abbiette comunque delle cose da barbari no e quindi purtroppo in Italia abbiamo un po' questa mancanza cioè che mentre in realtà siamo arrivati a dei livelli espressivi altissimi da un punto di vista di poesia o anche per dire degli stessi poemi cavallereschi quindi parliamo comunque anche della letteratura rinascimentale il tasso e l'ariosto cioè nomi massimi potremmo comunque citare anche altri altri nomi del rinascimento come per esempio possono essere poliziano per dire autori analoghi anche comunque dei dei poemi epico cavallereschi anche l'Italia comunque lì ha dato diciamo un grandissimo contributo però ecco ci manca questa abbiamo questa pecca diciamo questo limite purtroppo che l'Italia da un punto di vista di narrativa horror ha sfornato pochissimo poco o niente e quindi purtroppo ecco diciamo che la letteratura italiana ha raggiunto dei limiti cioè ha raggiunto dei livelli eccessi però a questo limite che purtroppo da un punto di vista di narrativa fantastica anche fantasy fantasy fantascientifica e dell'orrore purtroppo l'Italia ha dato poco o niente e quindi purtroppo lì i nomi i grandi nomi sono praticamente quasi tutti inglesi americani qualche tedesco magari come esempio può essere Hoffman anche se lì comunque si parlava già di racconti gotici ma comunque già molto cioè non così comunque non così ad esempio espliciti come ad esempio potevano essere poi magari per dire l'opera di una Mary Shelley o di una Anne Radcliffe o pensate ad esempio anche a nomi come Poe e Lovecraft che sono ritenuti tra i padri nella narrativa horror mentre purtroppo qua in Italia noi non abbiamo mai avuto questo genere di di romanzi ed è un peccato proprio perché è foscolo secondo me e non solo foscolo se si fosse messo lì a scrivere un romanzo gotico avrebbe sicuramente scritto un capolavoro cioè qualcosa veramente però vabbè purtroppo non è stato così va bene allora adesso direi di in un secondo video di leggervi un altro commento critico relativo alla figura femminile che sempre noi possiamo trovare espressa nelle poesie in alcune poesie di foscolo perché anche questo è un argomento molto interessante che ho selezionato però lo vediamo in un video a parte